Ribalta d'Oriente anche per Mercedes-Benz che ha scelto la Kermess automobilistica cinese per il lancio del concept GLA, SUV estremamente dinamico e sportivo che con i suoi 4 metri e 38 centimetri di lunghezza costituirà presto la porta di accesso al mondo dell'off-road della casa di Stoccarda. Sotto il cofano un 2 litri turbo benzina da 211 cavalli, abbinato a un cambio automatico doppia frizione a 7 marce e alla trazione integrale 4MATIC.